Se tu vivi con i giovani, tu dovrai diventare anche giovane. Lui ha ragione, questa era la chiave di tutto. Avevano capito che lui aveva ragione e non la cultura che le diceva Non ti sforzare troppo, fai quello che puoi, insomma, non è. È come una sensazione di protezione, perché tutto il mondo è lì per un motivo comune, come se fossimo tutti un'unica famiglia. Erano le idee, che erano così nuove, in quel momento storico della umanità, erano così nuove. Lui ci chiamò e dice, l'esperimento funziona. Quella forza che i giovani percepivano subito. Perché io credo che uno dei grandi segreti della giornata mondiale della gioventù sia stato lo stesso Papa Giovanni Paolo II. Noi tempestà, Cristo c'è con noi attraverso la Chiesa. Arricchire le ragioni della nostra fede a quella folla di ragazzi che ci saranno lì, Sarà stupendo, sarà magnifico, non ce n'è nessun dubbio, sorprenderà ancora. Grazie a tutti.